Cari amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi scuserete ma ho delle tali costrizioni di tempo mentre realizzo questo video che non ho neanche il tempo di indossare il kimono con tutte le sue necessità e quindi mi accetterete in un abito più borghese, più normale. Oggi prima di passare all'argomento della trasmissione sarà una puntata credo più leggera ma conterà qualcosa spero di significativo. Io volevo farvi vedere dalla mia collezione questo orologio da tasca. Questo orologio da tasca che ha una strana marcatura dietro, uno stemma dietro in stile probabilmente anni 30. In realtà è un orologio dei primi del Novecento, il più vecchio. Questo orologio, come vedete, non ha nessun stemma sul quadrante. Come accadeva spesso all'epoca, in realtà si tratta di un lecutre. E si tratta di una ripetizione minuti, lecutre, ultra piatta. Qui siamo veramente all'inizio del ventesimo secolo. Lo spessore non riesce a rendere in camera. Non capisco il perché, ma è veramente, veramente sottile. Guardatelo a confronto con le mie dita, per avere un'idea, è veramente, veramente sottile. E ve lo faccio sentire suonare, ve lo faccio sentire suonare. Allora, perché suona anche molto bene questa cassa, oltretutto. Ecco, qual è la particolarità di questo orologio? Oltre al fatto che è piatta, è veramente molto piatta. Voi direte, ma com'è possibile che all'inizio del ventesimo secolo facessero ripetizioni da tasca così piatti? In realtà è possibile per la semplice ragione che la ripetizione minuti è un dispositivo che si presta bene ad avere uno spessore ridotto soltanto il maggior diametro. Infatti questo orologio, anche se non si vede ovviamente dal video e dalle immagini, però è un orologio che, essendo la tasca, ha un diametro di una certa importanza e il calibro è abbastanza grande. E quindi hanno sfruttato il diametro per alcuni componenti, piuttosto che lo spessore. E quindi ne è risultato un orologio ultrapiatto. Le Cutre era specializzata in questi orologi a ripetizione oltrapiatti. Li ha fatti per molti anni e un esemplare identico a questo, proprio identico, a parte lo stemma dietro, ma identico senza il logo sul quadrante, è anche al museo di Gégé Le Cutre. È un orologio che io ho comprato per caso, cioè nel senso che stavo girando in via Condotti a Roma un giorno di lavoro e in una pausa di lavoro stavo passeggiando per via Condotti, c'è la gioielleria Eleuteri, vedo in vetrina questo orologio, vedo che ha una slitta di una ripetizione, allora mi fermo e decido così di comprarlo su due piedi. Il prezzo mi sembrava buono, in realtà poi tanto buono non era, ma all'epoca io il valore degli orologi da tasca li conoscevo ancora poco. Però, insomma, sono contento di averlo acquistato perché è un pezzo da museo, infatti esposto in un museo e ha il suo fascino. Il suo fascino è molto elegante, senza ombra di dubbio. Ma l'argomento del giorno è ancora il cronografo, perché io avevo lasciato in sospeso una questione che riguardava il pignone oscillante, quando ho trattato in controversie cronografiche i diversi tipi di innesto. L'avevo lasciato in sospeso perché avevo detto su questo non mi sento preparato, io se non mi sento preparato non intervengo. Però ho saputo qualcosa che, proprio in queste settimane, sono venuto a conoscenza di qualcosa che mi ha fatto capire qualcosa di più del pignone oscillante. E quindi oggi ve ne parlo, ma ve ne parlo partendo da un orologio, un orologio straordinario, un altro cronografo straordinario, non tanto per le funzioni, ma per il suo aspetto, la sua realizzazione, all'innesto a pignone oscillante. E' un cronografo di Jurn. Voi sapete che io ritengo davvero la manifattura di FP François Paul Jurn assolutamente, probabilmente la manifattura più straordinaria oggi presente perché ha una creatività tecnica ormai unita a un livello di finiture e un livello anche di prezzi che formano un mix secondo me assolutamente vincente e unico, è unico, è unico. Tutto questo grazie al grande maestro, veramente grande, che fa tutto, 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 François Paul Jurn. E dopo aver fatto quello splendido cronografo che è il Sintigraph Sport, in alluminio di cui possiede un esemplare, ha fatto un cronografo rattrappante con il pignone oscillante. E' un cronografo, tra l'altro, di un notevole valore anche. E lo vediamo e lo commentiamo. Io questo cronografo non l'avevo dimenticato per caso, l'avevo dimenticato seriamente, perché un orologio per me è sempre stato un po' controverso, ci sono degli aspetti critici e parleremo quindi anche di questo. E così parleremo anche del pignone oscillante e vediamo un po' il tutto. Eccolo qui, in versione oro rosa, cronografo rattrappante monopulsante al 2, col comando della rattrappante al 4, calibro manuale, ovviamente assolutamente inedito, originale, pensato solo e unicamente per questa cassa, è fatto con la stessa estetica in tre versioni, platino oro rosa e titanio con quadrante in alluminio. Ora andiamo a vedere meglio di cosa si tratta. Prima che mi dimentico, ho al polso l'HIT H3, tanto per cambiare, come vedete lo sto provando, continua a funzionare bene. Torniamo all'Orjourn. Questo cronografo, la ragione per cui, nel mio modo di vedere le cose, è un po' controverso, è che, pur essendo bellissimo, è che è 44 mm di diametro. Allora, sui diametri degli orologi Juhn, qui bisogna parlare di una notte dolente, una dei pochissime notte dolenti, perché Juhn aveva iniziato bellissimo, benissimo, con orologi da 38 mm. Poi, quando divenne un po' più famoso, iniziò a fare 38-40 mm e per me poteva anche andare bene, come discorso, cioè nel senso che io, se potevo, cercavo i 38 mm, poi naturalmente spesso si trovavano soli 40 mm e vabbè, così ho preso 40 mm in ressonanza, che però sarebbe stato meglio a 38. Ma vabbè, queste sono cose su cui è inutile anche discutere a volte. Così il Tourbillon a 40 mm, il Sentigraf Sport invece a 42. Ora, cosa è successo? Che a un certo punto lui, verso il 2011, si è innamorato, non si sa perché, della cassa di 42 mm. Era ancora il periodo in cui andavo con una certa regolarità a Ginevra, per cui io lo disse a Jun, mi lamentai di questo con Jun, cioè gli dissi, avendo saputo che lui aveva intenzione di sopprimere la misura 38 per fare le casse da 40 a 42 mm. Invece di 38-40, io mi permise di suggerirgli che era meglio la misura più piccola. Lui mi disse concordo, ma il mercato questo chiede e quindi passerò alla misura 40-42. Questo innamoramento di Jun per le misure più grandi purtroppo non è ancora del tutto venuto meno. Per cui, quando nel 2017 Only Watch presentò un esemplare unico prima questo cronografo rattrapante, lo fece su una cassa da 44 mm. Anche le versioni in produzione hanno i 44 mm, che per me è una misura eccessiva, anche se essendo lo spessore di 12 la cassa ha un profilo molto slanciato. Era rattrapante quindi con la seconda ruota a colonne ha 80 ore di riserva di carica e tutto ovviamente in materiali tradizionali. Ha una grandata veramente grande, questo sì, altre grandate di Jun con dischi con planari erano invece un po' piccoline per essere delle grandate ma erano sempre a doppio disco qui invece ha fatto una grandata veramente grande ed è monopulsante. e ha questo innesto a pignone oscillante. Allora, l'innesto a pignone oscillante che cos'è? Come dice il nome vi è questo pignone che ha un movimento per cui quando la ruota a colonne comanda l'innesto del cronografo il pignone oscilla verso la ruota dei secondi cronografici centrali in modo tale così da darle il movimento. Quindi è una sorta di innesto laterale però diverso invece di esserci le leve con una ruota a pignone fisso che viene messa in contatto con la ruota centrale dei secondi cronografici qui c'è una ruota che bascula un pignone che bascula e che dà il movimento al meccanismo cronografico. Io non ho mai capito non ho mai capito perché qualcuno dovesse usare il pignone oscillante per esempio lo usa ETA su 7,750 e lo usa JURN su questo super cronografo che tra l'altro ha un costo cioè rispetto alla concorrenza relativamente basso ma comunque importante siamo oltre i 70.000 euro quindi non è un cronografo da pochi soldi nelle versioni in metallo prezioso quella in titanio e alluminio e tra l'altro è estremamente leggera è molto molto leggera perché poi anche il movimento è fatto in parti di alluminio ha delle parti forate addirittura ha un bracciale tutto in titanio insomma è fatto molto bene come sempre ma lui dice che ha usato questo meccanismo a pignone oscillante modificato da lui in un modo che non è del tutto chiaro ho cercato il brevetto e non l'ho trovato vi farò vedere fra poco un'immagine che dovrebbe chiarire qualcosa ma non non può così tanto secondo me almeno non a me non la chiarisce troppo a me ma insomma e praticamente lui dice con questo sistema io ho un innesto tipo laterale con la bellezza dell'innesto laterale o quasi ma senza il saltino all'innesto cioè lui dice che con questa opinione oscillante ha evitato il saltino all'innesto naturalmente nella versione fatta da lui cioè in questa versione modificata sembra strano ma effettivamente potrebbe essere tenendo conto delle differenze fra pinione oscillante e innesto laterale standard potrebbe essere potrebbe essere anche perché Jun ho imparato che quando dice una cosa per quanto sia quasi incredibile però in genere è vera cioè io ho sperimentato che è attendibile è vero poi fa un po' il misterioso su come ho ottenuto i risultati perché ha questa forte concentrazione paura che qualcuno lo copia e quindi volontà di mantenere il segreto sulle soluzioni meccaniche brevettate ma gli orologi sono sempre quello che dicono di essere vediamo un po' ecco la versione in titanio con quadrante in alluminio vedete anche un po' forato vi fa vedere anche i meccanismi sotto anche il calibro ha parti in alluminio invece che avere punti e platini in oro rosa che ovviamente è più pesante e lo trovo molto molto bello molto bello questa è la versione in platino casse bracciali in platino quadranti in oro come da tradizione giorni questo è il suo bellissimo movimento con punti e platini in oro molto bello e le levi in acciaio chiaro molto bello questo bicromatismo io l'ho sempre l'ho sempre apprezzato e lo apprezzo molto ed ecco qui l'unico disegno del calibro del pignone che ho trovato che ti fa anche poi vedere pure la pinza del rattrappante diciamo quindi l'immagine migliore che ho trovato non ne ho trovato altre e non è che si capisca tantissimo sono sincero ma qualcosa si capisce sì cioè si vede direi che il pignone oscillante si vede e ancora la versione insomma se June è veramente riuscito ad evitare il saltino con un innesto di quel tipo beh sì è una bella conquista un bel risultato in un innesto che di fatto è quasi laterale o è quello che assomiglia di più all'innesto laterale dopo l'innesto laterale quindi un altro aspetto discutibile di questo orologio è che mi fa arrabbiare mi ha fatto arrabbiare quando è uscito è che praticamente c'era una grande differenza di prezzo fra la versione in oro rosa e la versione in platino anche qui c'è un discorso da fare perché June ha sempre avuto in questo una filosofia particolare unica e per me apprezzabilissima ma voi lo sapete che tutte le case ci fanno pagare il platino le versioni in platino una cifra spropositata questo vale per esempio per Patek Philippe ovviamente per Vacheron Costantè per tutte le case a Langenzone tutte 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 cioè roba non so sovrapprezzi da 20.000 euro per il platino ora il platino mediamente costa di più dell'oro ma delle volte accade anche soprattutto recentemente negli ultimi anni che l'oro costi di più del platino per periodi lunghi di tempo il fatto è che il platino è più denso quindi è più duro da lavorare e ci sono delle macchine che si usurano le spazzole più velocemente questo è un costo cioè lavorare il platino serve più tempo e serve ricambiare le spazzole delle macchine quindi costa di più però insomma ci sono delle ci sono delle delle follie 20.000 euro per una cassa di un materiale diverso rispetto a loro sono troppe e Giun infatti ha sempre fatto una politica anche sugli orologi più costosi diversa cioè lui ti dice io te lo do in oro rosa lo do in platino beh te lo faccio pagare 5.000 euro in più che per carità non sono bluscolini ma soprattutto su orologi costosi sono una cifra onesta e Giun ha anche aggiunto su questo io faccio così a differenza di tutti gli altri perché io non sono un venditore di casse cioè io faccio altro sono un orologiario non devo guadagnare dal metallo della cassa quindi per me i 5.000 euro mi coprono le spese magari c'è anche un minimo di guadagno e mi basta e non non pretendo altro io ho sempre trovato questo molto apprezzabile ecco questo è un po' venuto meno con questo cronografo rattrappante perché in effetti la differenza è più sensibile fra versioni in oro e versioni in platino perché boh qualcuno potrebbe dire beh anche una cassa più importante 44 mm ho dimenticato di dire che questo calibro cronografico è anche sottile in sé perché se la cassa è spessa 12 mm che comunque è un buon livello è per una rattrappante uno dei rattrappanti più sottili del mercato però il calibro è solo 6,80 mm che è molto valido molto valido per essere un rattrappante cioè certamente non è un ultrapiatto ma è perché Jurn fa così Jurn è vero che ha fatto la ripetizione minuti ultrapiatta ma lui ha un'altra differenza per cui io lo stimo molto è che lui invece di proporre ultrapiatti da record lui e poi il resto della gamma di dimensioni di spessori normali lui dice la mia orologeria è tutta piatta è tutta molto piatta e quindi io non faccio l'ultrapiatti io ho tutta la gamma di orologi molto piatti ricorrendo anche a soluzioni inedite come per esempio penso alla collezione automatica Octa con 5 giorni di riserva di carica lì per esempio c'è il fatto che tutte le casse della collezione Octa con tutte le diverse complicazioni sono tutte entro i 10 mm perché perché lui nel predisporre il calibro base ha pensato a delle complicazioni che non sono semplici moduli sono simili integrate già nel calibro di base per risparmiare lo spessore infatti nell'Octa Calendrie per esempio così è cioè lo spessore è quello lo spessore è così anche sul complicatissimo perpetuo a doppia grandata grande con quindi doppio disco a salto istantaneo un piccolo capolavoro anche quell'orologio lì sta nei 10 mm di diametro e quindi che ha un risultato strepitoso nessuno ha mai fatto un perpetuo a salto istantaneo con grandata a 10 mm di diametro quindi Jun lavora così e io lo adoro per questo ogni tanto viene un po' meno a queste regole e soprattutto io mi auguro che torni ai 40 mm se riusciremo come spero a intervistarlo beh io questo state tranquilli che gli chiederò spiegazione sia del pignone oscillante cioè di cercare di capire meglio come ha realizzato questa cosa e sicuramente anche perorerò di nuovo la causa inutilmente probabilmente delle casse di misure minori perché adesso poi il mercato si sta spostando lì quindi a maggior ragione bisogna che anche Jul ne tenga conto ecco con questo video più leggero mi fermo mi fermo qui ah no prima proprio di interrompermi c'è qualcosa che volevo dirvi negli scorsi giorni io ho messo un sondaggio perché un mio iscritto uno di noi che mi segue dall'inizio Raffaello Fossa mi ha fatto notare che i miei video sarebbero più fruibili se mettessero meno carne al fuoco se avessero un argomento ma magari non trattato tutti in uno stesso video ma magari spezzettato anche i più video proprio per rendere ciascun video più fruibile più facilmente fruibile ora lo spezzettamento un po' è sempre un limite perché comunque ti richiede di aprire e di chiudere dei video è vero che è più facile trovare il punto a cui sei arrivato che poi io do per scontato che quando faccio un video a cavallo dei 30 minuti io do per scontato che verrà visto più volte cioè è normale questo però mi sono posto il problema ecco il punto è che io ritengo che uno degli apporti più originali che io posso dare con questi video e che credo veramente non dia nessun altro sia quello di fare dei salti temporali dei collegamenti fra orologi magari appartenenti quasi aeree diverse o comunque a decenni diversi saper parlare di orologi contemporanei con la profondità storica e saper parlare di orologi storici con la profondità contemporanea quando vi ho fatto vedere le cultre dell'inizio del secolo ultra piatto questo ci fa pensare anche a Bulgari octo finissimo ripetizione minuti che anche quello è ultra piatto infatti anche quello guarda caso ha un diametro un po' abbondante io questa capacità di fare collegamenti la considero una mia qualità non un difetto e credo che sia una cosa che veramente possano fare in pochi ci vuole una grande conoscenza una grande esperienza per riuscire a fare questo poi i giudici siete voi non sono io dei risultati ma mi sembra che molti apprezzino è anche vero che molti non solo Raffaello ho visto dal sondaggio chiedono anche su numero inferiore chiedono video più corti e con meno temi io cerco di tenere entrambe le istanze incontro sia in maggior approfondimento magari su più video sia video più brevi devo anche aggiungere una nota biografica in tutto questo perché vedete molti poi sono curiosi di sapere come sono arrivato io agli orologi allora adesso vi spiego un pezzettino della mia vita intellettuale già da giovane studente dunque praticamente negli studi ero famoso per la memoria molto forte e fotografica pazzesca avevo veramente ho avuto fino a qualche anno fa una memoria che veramente non era tanto comune onestamente me lo hanno detto in tanti cioè io con una sola lettura di una pagina di un libro di storia o è a me rimanevano impressi le cifre ma anche le posizioni nella pagina di tutti gli argomenti per cui la mia era una memoria visiva fotografica cioè fotografavo le pagine e nella mia testa riuscivo a recuperarle quindi non ho mai sottolineato un libro questo mi aiutò moltissimo negli studi dove sono sempre andato bene quindi io sono una persona tendenzialmente di studio poi una volta che ho finito le attività universitarie io pensavo di avere una mia vita lavorativa già segnata da attività familiari vengo travolto dalla politica mi lascio travolgere dalla politica in un modo non voluto perché io non cercavo la politica è la politica che ha cercato me e io decido di provare con la politica e a quel punto la mia formazione molto analitica molto tesa ad approfondire si è trovata di fronte a uno shock perché la politica richiede il contrario cioè se tu sei uno che studia troppo in politica vai male perché la politica richiede azione e in politica l'azione ha dei tempi cioè quello che puoi fare oggi non lo puoi fare domani quello che potevi fare ieri non lo potrai fare domani è veramente così quindi ci vuole capacità di agire tempestivamente sacrificare l'ottimo per il meglio questo mi ha insegnato molto ci ho messo del tempo ma ho dovuto imparare a non pretendere più quella perfezione negli interventi anche in assemblee parlamentari che invece sarei portato ad avere dalla mia attitudine di studio e che quindi è anche un'attitudine che mi allontana un po' dalla vita imprenditoriale che invece richiede tutt'altro spesso il buttarsi no? cioè senza approfondire troppo ma con intuito capacità di fiutare l'affare per così dire io viceversa sono analitico studio studio approfondisco e questa è la mia vita il mio modo di approcciarmi alle cose che però è stato opportunamente temperato dalla politica che invece si basa su tutti altri criteri dico anche un po' purtroppo perché poi c'è troppa faciloneria c'è troppa superficialità invece le materie vanno studiate bene anche per non cappellare troppo le materie sono tutte complesse quelle della politica è molto complesse e quindi questo è un dato volevo chiudere quindi ecco in definitiva perché vi ho detto questo perché oggi che faccio i video e decido io come fare i video mi trovo ancora una volta tra sospeso in un dilemma cioè tra necessità di approfondimento e necessità di efficacia espositiva e oscillo un po' e non riesco a trovare la quadra io penso che continuerò a cercare e a provare finché farò video perché non credo che approderò mai a una ricetta conclusiva almeno penso e così approfondendo lo studio di questo rattrappante mi sono letto uno scritto di Juhn che non avevo mai letto che parla della storia dei cronografi e c'è un passaggio che mi ha fatto sobbalzare cioè noi sappiamo che per anni l'invenzione del cronografo è stata attribuita a Ryussek che si chiami così che aveva creato l'orologio che scrive cioè l'orologio perché cronografo questo vuol dire scrivere il tempo è un orologio che scrive il tempo infatti l'orologio di Ryussek del 1827 qualcosa del genere aveva questa caratteristica ed è stato considerato il primo cronografo ma in realtà un po' di tempo prima nel 1816 un tal Moanet credo si pronunci così perché non ho visto la dieresi sopra la I quindi Moanet aveva fatto un contoara che era una sorta di cronografo che però misurava pensate un sessantesimo di secondo quindi aveva una frequenza aveva un bilanciere con una frequenza di 216.000 alternanze orari se avete capito bene nel 1816 216.000 alternanze orari sicuramente era un orologio che tanto bene non andava perché se Zenit ha avuto problemi a far funzionare le 36.000 alternanze orarie alla fine degli anni 60 figuriamoci 216.000 alternanze orarie con i lubrificanti che potevano esserci nel 1816 17 però ecco per dire la storia è talmente ricca che se ne impara sempre delle nuove veramente se ne impara delle nuove ed è bello ed è bello potersi poter fare questi riferimenti e poter fare questi collegamenti vi ringrazio anche questo video è diventato lungo al prossimo video e spero veramente anzi mi impegno il prossimo video a dedicarlo a Romain Gauthier grazie a tutti